Buongiorno a tutti, sono il professor Angelo Antonini e sono il responsabile della rete europea per le malattie rare neurologiche, un gruppo di malattie molto eterogeneo che parte dall'età pediatrica, arriva nell'età adulta fino all'età tardiva nella vita. Queste malattie nell'età pediatrica comprendono le distonie che sono una patologia piuttosto prevalente sul nostro territorio e che possono evolvere poi nell'età adulta, hanno una base genetica molto spesso. Le malattie della rete per le malattie rare neurologiche dell'adulto sono molteplici, alcune sono genetiche come la correa di Huntington, quindi una malattia tipicamente familiare, oleatassie, spinocerebellari, altre invece ancora considerate sporadiche, tra queste c'è la paralisi sopranucolare progressiva, l'atrofia multisistemica, la demenza frontotemporale che colpisce soggetti anche molto avanti nel corso della propria vita e poi tutta una serie di altre malattie da accumulo di metalli che hanno un impatto importante sulla vita, la capacità cognitiva, comportamentale e motoria della persona. Siamo l'unico centro nel Triveneto, abbiamo iniziato da due anni e stiamo ricevendo moltissime richieste di visita e partecipazione anche perché siamo coinvolti in molte terapie sperimentali, alcune biologiche e altre più sintomatiche, quindi ci auguriamo di poter fornire una cura per almeno una o più di queste di questi trattamenti.